Siamo in via 20 settembre a Roma davanti al Ministero dell'Economia, dove il PD romano ha deciso di riunirsi per consegnare una lettera al Ministro Tremonti dopo la proposta di Bossi di sfostare alcuni ministeri a Milano. Nell'epoca della crisi economica e finanziaria a cui Tremonti ogni volta ci richiama in termini di austerità, di risparmio, di tali, ci sembra paradossale che il suo schieramento proponga una cosa di questa natura diseconomica. Quindi vogliamo sapere se lui è d'accordo, dia un pronunciamento lui perché credo che lui possa mettere fine a questa inutile diatriba, questa inutile polemica. Dite di no allo spostamento di alcuni ministeri a Roma, però dopo ieri sera si parla dello spostamento di alcuni dipartimenti. Beh, è difficile capirci in questa cosa. Capiamo che è un tentativo disperato per guadagnare un po' di voti al nord adesso che c'è il ballottaggio a Milano. Ma francamente non dobbiamo nemmeno sottolavorarle queste cose perché noi dopo il ballottaggio ricordiamoci che ci avvicineremo alla scadenza delle politiche. E Bossi purtroppo ricatta. Che la Lega voglia i ministeri al nord non è una novità. In particolare vorrebbe proprio quello dell'economia perché il trasferimento di alcuni bracci dell'esecutivo, dicono, è fondamentale nel processo di realizzazione del federalismo. In uno Stato federale è anche giusto che lo Stato si avvicini di più alle realtà locali? Guardi, per avvicinare lo Stato intanto bisogna fare le cose a favore dei cittadini. Ma poi noi abbiamo molte istituzioni che se funzionano, abbiamo i comuni, abbiamo addirittura nelle grandi città, abbiamo i municipi, abbiamo le province, abbiamo le regioni. Vogliamo creare altre per avvicinare i cittadini allo Stato? Le istituzioni ce ne sono molte, dobbiamo solo farle funzionare. Le riforme, anche per decentrare, si fanno con un ragionamento che avvicina i cittadini al livello di decisione che i territori devono assumere e non con mere operazioni che spostano, diciamo, qualche ministero in qualche, perché questo consentirebbe poi a dire che magari si è più distanti come cittadini di Roma dai scelte che fa un ministero. Non è quello il tema.